Il Rassemblement Val d'Otent si presenta nella circoscrizione nord-ovest in rappresentanza della minoranza linguistica di lingua francese della Valle d'Aosta, ma il suo obiettivo è dare voce anche ad altre realtà, non necessariamente legate alla nostra piccola regione, realtà che credono nei valori del federalismo, dell'autogoverno dei territori, dell'autonomia, delle libertà individuali e soprattutto della libertà d'impresa, valori che altre realtà e altri partiti, altri gruppi hanno totalmente dimenticato. Il Rassemblement Val d'Otent in queste elezioni europee vuole dare voce a quei territori dimenticati e spesso bistrattati da un'eurocrazia sempre più soffocante. Il Rassemblement Val d'Otent vuole dare fiducia e speranza a queste realtà.